ciao amici di Italia Top Games cominciamo il secondo mese di questa rubrica per favore Konami annuncia PES 2022 Konami dopo gli annunci delle partnership con il Napoli e con l'Atalanta dopo l'intervista rilasciata a un famoso magazine è tornata in questo assordante silenzio non l'avevo detto mai in questa rubrica ne parlavo quando doveva essere annunciato il PES 2021 adesso sì che si può parlare di assordante silenzio siamo al 9 di giugno stiamo giocando con lo stesso gioco da due anni sostanzialmente con a parte le novità eccetera però qui di PES 2022 ancora neppure l'ombra e si stanno creando due fazioni ben distinte fra voi commentatori fra voi utenti del canale chi è sicuro che arriverà venerdì 11 il teaser e chi invece penserà che il gioco verrà presentato direttamente dopo gli europei io non dico nulla io l'ho detto che secondo me sfruttare gli europei sarebbe una buona cosa visto che Konami ha la partnership ufficiale io sono qua ho voglia di vedere PES 2022 nettamente ma se non arriva io vado avanti poi ripeto a luglio se sarà il caso farò farò i filmati sopra le montagne detto tutto questo avete già letto il titolo del della puntata di oggi un errore da non ripetere su PES 2022 allora dopo che lunedì non ero riuscito per mancanza di tempo a fare il match day ieri finalmente ho fatto il match day degli europei e mi sono divertito anche molto onestamente solo tre partite però con l'Inghilterra a me questa cosa di cambiare le squadre mi piace davvero tanto e anzi io già l'ho proposto speriamo che Konami prenda in considerazione la cosa ma non lo so il fatto di creare qualcosa di differente rispetto alle squadre di club esempio sarebbe bellissimo un match day secondo la mia opinione giocatori sudamericani contro giocatori europei sudamericani o americani pure contro giocatori europei oppure giocatori del campionato francese contro giocatori del campionato italiano o giocatori della liga contro giocatori della premier league e magari non solo mettere le frecce ma dare la possibilità di di convocare nel proprio my club solo quei giocatori che hanno quel requisito se non se ne hanno abbastanza magari si possono fare dei prestiti a tassi agevolati diciamo per così dire ecco quest'idea del match day che non prenda solo ed esclusivamente le squadre di club secondo me sarebbe un modo per accrescere l'interesse del match day comunque questa è una proposta non è un errore l'errore è il seguente ho fatto il match day come vi dicevo con con l'inghilterra mi sono divertito ne ho persa una immeritatamente ne ho vinta una secondo me meritatamente ne ho pareggiata un'altra immeritatamente nel senso che la dovevo perdere onestamente ma anche questo non è importante la questione è quella dei premi cioè siamo oramai a metà giugno ognuno di noi ha la sua squadra diciamo di un certo livello poi magari qualcuno ha iniziato a giocare più tardi però grossa parte dei giocatori ha già una squadra importante io onestamente dopo che ho bescato Neymar davvero ho davvero pochi giocatori che mi vengono in mente e vorrei avere Van Dijk in evidenza sostanzialmente che ho invece base però al di là di questo per l'ennesima volta anche il match day europeo è carina anche la grafica a tema europei ha gli stessi identici premi cioè i preparatori che io non uso oddio adesso non ricordo il nome però volevo ringraziare la persona che mi ha scritto mi ha consigliato di di usare il preparatore posizione per per Alexander Arnold è subito andato a 99 grazie non ci avevo pensato ma è in questo caso è stato utilissimo grazie ancora scusa se in questo momento ho un lapsus e non ricordo il tuo nome ma ti ringrazio ancora detto questo dicevo i premi sempre uguali ma dico appunto gli europei ma mi vuoi regalare un giro di pool ad esempio oppure una palla nera solo della nazionale con cui ho giocato appunto l'inghilterra oppure dei giocatori in evidenza sempre dell'inghilterra magari anche con più punti da fare in più in più giorni cioè il match day europeo è molto divertente ribadisco perché mescola le carte in tavola ti fa utilizzare giocatori differenti ti fa giocare anche in metodi differenti perché ecco un aspetto secondo me molto interessante nei club è che comunque i giocatori si comportano molto differentemente azono doi che che ho in versione base per dire è un anche come centrocampista laterale sinistro è straordinario fa delle fa anche delle percussioni e anche dei gol importantissimi me ne ha fatti giocatore che mi piace tantissimo peccato anche lui non averlo in evidenza ma anche base si sposa benissimo con il tipo di gioco che che cerco di mettere in atto in paese 2021 tutto questo è bello però dopo se alla fine ho il l'agente argento l'agente oro e le monete per carità benedette le monete anche se sono un po poche quando non c'è qualche moltiplicatore però non hanno sicuramente il valore che ci aveva che avevano questi premi a settembre ottobre a novembre anche a dicembre a gennaio o anche a febbraio ma giugno no no a giugno no bisognava cambiare i premi e non credo ok lasciamo perdere i premi settimanali e tutto quanto ma anche solo un agente specifico della nazionale con cui giochi il match day anche non palle nere anche tutti i giocatori dell'inghilterra e in cui però ci sono anche le palle nere palle oro dell'inghilterra e così per francia italia germania spagna eccetera eccetera non avrebbe avuto più senso proprio per magari migliorare il proprio moltiplicatore punti magari per trovare quel giocatore che ti manca e mandare in campo una squadra tutta inglese o tutta francese tutta italiana eccetera eccetera o comunque mettere dei premi che a livello temporale abbiano lo stesso valore che avevano questi stessi premi che non sono non sono mutati nel corso dei mesi al in autunno o in inverno e oggi hanno un valore molto molto più basso e onestamente cioè c'è il divertimento di giocare perché c'è e quello rimane l'aspetto fondamentale però l'incentivo lo zuccherino che il match day ci dovrebbe dare secondo me è a mezza porzione rispetto a come era qualche mese fa ma in generale proprio quello dei premi che devono un po mutare secondo me è un errore che cioè la non mutazione dei premi nel corso dei mesi in PES 2021 ma anche in PES 2020 anzi in PES 2021 è stato fatto qualcosa di meglio è uno degli elementi più semplici da modificare e decisamente importanti da modificare in my club perché altrimenti altrimenti non è che poi ci sono tutte queste cose da fare in my club cosa abbiamo a fare le partite classificate bene benissimo vuoi aumentare di ranking ok le challenge contro com che abbiamo visto i premi sono sempre quelli le challenge online che o le win streak o le league challenge quelle io non le faccio soprattutto le win streak quando mi propongono come premio una palla nera a maggio a giugno onestamente non mi va più di farle e poi c'è il match day che vi dico tranquillamente non ci fosse stata la variazione sul tema delle nazionali io questa settimana non avrei giocato al match day c'è la questione del divertirsi con l'inghilterra magari la settimana prossima girerò la francia per giocare con la francia e poi girerò l'italia eccetera eccetera però i premi non sono assolutamente invitanti al di là ripeto che le monete sono sempre gradite anche se poche però dico vuoi mettere anche una volta un match day con i punti football che tanti di noi hanno difficoltà ad arrivare ad un'icona da qui alla fine e visto che qualcuno me lo chiede ogni tanto potremmo utilizzare i punti football che ci lasciamo in PES 2021 in PES 2022 ragazzi io questo purtroppo non lo so non c'è una casistica cioè nel senso non è che i punti football sono una novità di quest'anno non so dirvi come si comporterà Konami l'anno prossimo deve essere Konami ad annunciare questa cosa però davvero è un peccato ieri proprio come dire è stata la nota dolente con tanto contento di avere un'oretta di tempo libero per giocare a PES 2022 contento di schierare una bella formazione come quella dell'Inghilterra a parte il portiere e i difensori centrali che comunque dopo la prima partita persa si sono comportati abbastanza bene lo stesso Maguire che ho fatto entrare nella seconda non mi è dispiaciuto però un peccato che ecco quel gusto un pochino più grande di giocare per le vittorie sicuramente manca poi per carità ognuno ha le sue preferenze ad esempio a me quasi interessano i più preparatori ESP delle challenge contro COM che però io faccio quasi cioè faccio solo per il premio perché lì non mi diverto con le challenge contro COM però i preparatori ESP mi servono perché ci sono sempre giocatori da livellare non finiscono mai e invece i premi del match day sono un po' inadeguati secondo me soprattutto al 9 di giugno e poi credo che questi premi rimarranno gli stessi anche le prossime settimane con i prossimi match day degli europei e continueranno ad essere così speriamo speriamo che questo errore non si ripete in PES 2022 anche perché ribadisco se ci sono degli elementi come le infrastrutture online come le licenze come altri che richiedono o degli investimenti economici molto importanti o dei cambiamenti strutturali importanti quello di cambiare i premi al match day secondo me è un qualcosa che richiede davvero pochissimo tempo serve solo un po' di voglia serve un po' di chiarezza sulla dinamicità sul sul ritmo che c'è dal match day e poco altro va bene la puntata numero 31 finisce qua io vi ringrazio se mi avete seguito fin qui se ancora non vi siete iscritti al canale fatelo così magari per l'uscita di PES 2022 saremo in 10.000 o magari festeggeremo prima questo risultato se vi piace questo canale vi piacciono i contenuti e volete supportarci economicamente e soprattutto moralmente lo potete fare abbonandovi da 99 centesimi al mese 3 centesimi al giorno si tratta oppure potete fare i vostri acquisti su amazon passando per il link di affiliazione a voi non costa un centesimo di più e anche in questo caso ci supportate materialmente e moralmente per le spese che ha il network se non trovate il link di affiliazione ve lo giro io ve lo ribadisco a voi non costa un centesimo di più bene grazie per oggi è tutto ci vediamo domani mattina per gli aggiornamenti PES 2022 e poi per la puntata numero 32 di per favore conami annuncia PES 2022 che chissà fino a quando continuerà ciao